Signori, bentornati su Quei Due Sui Server 2 con Arma 3 E dobbiamo comprare le armi, chiaramente Ciao, bello Comprare le armi... ah, qui dal... User 2 sei tu, eccoti Hai capito come si fa? Si compra, no? Si Eh beh, devi andare qua vicino Invio Invio? Ah, con lo scroll Clicca sulla cassa, usa lo scroll, open shop Con invio poi Come ci sei? Non lo so, non me lo chiedere Noi siamo grossi grossi esperti di armi E... Sappiamo esattamente qual è l'arma che stiamo acquistando Anche se qui non c'è una... una preview, diciamo Allora, io prenderò una 762 No, no, ma le altre c'hanno la X, non si possono prendere Perché no? Eh, c'è la X Le ottiche... non posso prendere ottiche Ma che gioco di me... Allora, abbiamo preso le armi Oh, going to the battle, vai Immagino... Immagino che... Ok Il tasto... Il tasto centrale, sempre Vieni, vieni Spero che tu spawni vicino a me Perché lagga tutto? Che gioco di merda Scusate, ragazzi, che adorate Arma 3 Ma io lo chiamerò gioco di merda tutto il tempo che... La cosa bella è che non c'è la mia telecamera Perché? Perché Arma 3 è bello User 2, eccoti, ti vedo Mi vedi? Sì Vieni verso di me che Dio solo sa perché sto da solo in una zona completamente solo Ma anche io ti vedo Eh, ma è mappa Ma perché fa schifo sto gioco? Va, va a scatti Cristo, c'è una Titan X, c'ho Eh, ma... Il problema è che non ci sei giocando Sei morto No, l'ho ucciso L'ho proprio freddato di cattiveria Cioè, ho dovuto abbassare la grafica E comunque va male Cioè, va veramente male Ma come ci fate a giocare? Stai zitto, questo è un gioco... Come si dice? È simulativo Stai venendo verso di me Non so dove cazzo sei perché io la mappa la vedo Ma non so dove possa essere la tua posizione Oh, user devi vedere Ho capito, ma non ti vedo Oh, ma se io ti vedo a te Che ti stai a muovere sulla strada Stai di fronte a me, stai Allora vado dritto, così? Vai Oh, gira a destra Destra, destra, destra Che però è la mia sinistra No, destra Mi stanno sparando Sei morto, ti ho visto scomparire Ragazzi, entro in battaglia Invece di aspettare Allora io riprendo Stanno sparando con le pop pop Senti pop pop Going to the battle Going to the battle Però è una kill, l'ho fatta Grande soddisfazione Oh, anch'io ho fatto una kill Nel senso che mi hanno ammazzato Oh, sono rispannato con... No, eh No, eh Porco Sei dentro? Ma se entri, entri senza arma tu Ma tu l'hai ricomprata l'arma? Sì Le devi ricomprà! È un gioco che non va per me Io l'ho sempre detto Ma perché non ne abbiamo mai parlato sul canale? Ma porca di una... Ma perché a me mi mette sempre lontanissimo Dalla battaglia? Ce n'ho uno qua sopra Adesso lo prendo... Ma che ca... Ma non... Io entro senza niente Perché a me mi dice open settings Invece di... Ah, bello Bello, bello Bello che se non compri le armi Veramente non... Non ti prende niente Mi spari, scusa? Nemico? Mi spari? A me non me la faceva comprare più l'arma Mi diceva setting Vabbè, tanto se... Cioè, ma... Ma si può... Ma quale divertimento c'è? Quale? Simulativo Mi dici dove cazzo sei? Porco di satana Tanto senti... Un sacco di pop pop qua Sembrano gli spari del santo Senti quelle Pim, 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 pim Le cose... Oh, ecco di là Sono vicino a te Oh, sopra di te Sopra di te Sopra di te Chi c'è sopra di me? Eh, ti salverò io Ovviamente con questo mirino Non è che posso fai miracoli Sì, ma non è possibile Ce n'è uno sopra di te Lo so, è un cecchino Eh, porca troia Ho detto porca troia Volevo dire... È un quarto d'ora che sto... Porco satana Io propongo alla fine di questo gameplay Mostriamo che lo disinstalliamo Io non ci credo però Eh, non... Mo che cazzo gli hai preso? Porco È il gioco più ritardo del mondo Non esiste un FPS Mi rimetti la cazzo di visuale Quale cazzo era? Ma perché fa così mo? Perché non mi posso girare? Ma perché non mi posso... Oh, ma tu sai perché? Perché si muove soltanto di quel... Così? Io... No... Io sto giocando contro il gioco Cioè non contro gli altri nemici Aiuto! Oh, zitto, zitto Non so... Hai ucciso? No, non so perché Mi ha tolto l'arma Allora, una persona Una persona che non ha idea di come si giochi Come sono io qui Hai visto che io l'ho sparato? Ma io invece non posso Una persona che non ha idea di come si spari Di come si facciano le cose Non può giocare a sto gioco Non lo può fare E loro ti diranno È normale Tu devi sapere prima Eh, porco, ho capito Sono tutti cecchini Io sono l'unico figlio di puttana Che c'ha una... Un Cristina d'Avena qua De merda Comunque pure a me mi stanno facciando Unlock at level 4 È simulativo il gioco È simulativo E poi ci stanno i livelli Ma non vi vergognate, no? Però ovviamente diranno Ma questa è una modalità Che non è ufficiale È un team that match de merda Non è questa la modalità di arma Tanto lo shooting Tanto fa schifo qua Tanto fa schifo L'unico gioco che mi fa incazzare Senza giocare Guarda, ero così Ero così stanco di non fare Nessuna kill Che ho ucciso una lepre Che è morta un anno dopo Eccolo, eccolo Ho un nemico sottotiro Ovviamente non muore Ho 24 colpi Mo mi spieghi che cazzo ci faccio Con 24 colpi Io Se mi metti a mano una mitraglietta Non è una mitraglietta È una cosa che sparo di più Colpi Un fucile d'assalto Un make up Gipsy Ti vedo Sei di fronte a me Perché cazzo? Ah ecco Perché ce n'è uno lì sopra Se quello c'è un fucile da cecchino Mi spieghi Ma è normale Noi siamo livello basso Eh ho capito Ma non è che posso crepare Perché sono di livello basso Ma che senso ha Simula il ranking della guerra Capito? Affanculo va Posso chiudere sto gioco di merda E non riaprirlo mai più? Facciamo una kill Almeno una kill Il nostro scopo è fare una kill Cioè ma Ma come ti passa per la testa Di fare un gioco così? Cioè di fare una modalità così Perché Davvero Come ti passa per la cazzo Dell'anticamera e il cervello? Vabbè forse abbiamo sbagliato noi A prendere questa modalità Che non sia Ti ammazzo E dai Oh Mo' gli rubo il kit L'ho ucciso? Sì l'ho ucciso Ma gli devo rubare il kit Posso prenderlo il kit? Ovviamente devo imparare Ok Come purchase? Perché mi dice purchase? Devo comprare l'arma Ah È un'arma premium questa Non la posso comprare Come premium? È un'arma premium È ovvio che io non la posso comprare È un'arma premium Allora è proprio simulativo Ok Ho ucciso qualcuno C'ho sette colpi Secondo te ce la faccio Uccide qualcuno? Madonna è morto dopo sei anni Ma io ho finito i colpi Guarda quel bastardo che mi sta aspettando là fuori Affaccia Come si prendono le Ecco qua Sì ho preso il cecchino Come hai fatto? Io ho preso l'arma premium Ma perché? Devi scrollare Devi scrollare Cosa? Ma l'ho ucciso Quando clicchi su qualcosa Non ti dà mai l'opzione È schiatta Ho finito i colpi Però Cioè ti rendi conto che io ho sparato in testa E quello si girava È morto Qualcuno l'ha ucciso Gli andrò a fottere l'arma Fosse l'ultima cosa che faccio Mayday Mayday Sto Sto correndo A zig zag Sono lento Ma corro a zig zag Adesso mi abbasso Ok Sono vicino al cadavere Che comunque non ho ucciso io Ho preso i colpi Ok Mi stanno sparando Ma sono morto Mentre ero in copertura Ma che è sta cosa? Siamo andati a finire Su un server premium Credo Poi si la gente Si la mente di 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 team fortress Che c'hai server premium Guarda sto figlio di Baldraca È morto Non si sa mai Io ti giuro Io sarò morto 15 volte Quando abbiamo iniziato Però dice Guarda 8 volte Io sono morto 8 volte 11 ne ho fatte Oh avessi visto uno Che mi uccideva Niente Faccio simulativa Ti abbassi? Mi abbasso Oh L'ho visto L'ho visto passare uno Si Con la ringhiera Però lì Ho la ringhiera Ma io credo di aver preso I colpi Però non è che Riesca a ricaricare Se primo R Forse R Non serve E mori Porco il Guardalo là Cioè ma vi rendete conto Simulativi Forse R Non serve Cioè ma vi rendete conto Che io ho sparato 6 volte In testa E non è morto Ma chi? Ma uno che stava correndo Guarda come sono tattico Guarda Mi giro In realtà anch'io sto facendo Una partita molto Vengo vicino a te Ci sei? Ti sto vedendo Sono in mezzo alla strada Non sto facendo una uscita Molto tattica Sono io animale Meno male che non c'è il fuoco a me Scusami non volevo Ok spostiamoci stealth Tattica Madonna che bello Dopo quasi 20 minuti di gioco È la prima volta che ci Ecco davanti a noi uno Figurati Io credo di non avere caricatore A meno che non C'è una cosa che si chiama ricarica Che non si fa con la R Andiamo qui in questa casa Ti seguo Ti seguo Andiamo su Tango Bravo Charlie X90 Ok porte chiuse Quindi Libero Sibilità di contatto Ecco la porta Un peso specifico Mi ha spostato Ok attenzione Qui A me continua a mestruarsi Questo però Continua ad avere dei momenti Ecco ce n'è uno di là Tango Alpha Bravo Gli sto sparando in testa Ma niente Non muore E Highlander Lo chiamavano Non ti preoccupa Che adesso esce E ci spara Ok Corre in fondo al cortile Io sto ricaricando Come si fa a ricaricare R Mi hanno sparato Anche a te Però Però siamo riusciti a fare un'azione insieme Io mi sento già molto Come dire Galvanizzato da questa cosa Guarda a te A me mi fa sempre schifo come prima No beh si Il gioco mi fa un cacare Che tu non hai idea Come faccio a Solo a pensare Di poter ammazzare Secondo te Dimmi Non lo so user Dove sei user? Mi hanno appena ammazzato Non ti preoccupare Non lo so E' stato uno con le freccette Credo Perché quello era il rumore Suono da quello Giustamente Ma che cazzo Credo che dovessi fare Save us Prima di fare load Noi Piccoli topi Dobbiamo Metterci Oh c'è un'arma nuova Ai No E' la mia arma Credo Ma dai Ma non è possibile L'ho presa Ho preso un'arma nuova Adesso La cambio Mi metto qui dentro E la cambio Dai dai Ci stiamo prendendo gusto Adesso No no Era la mia arma Scherzando Open shop Tu ci stai prendendo gusto Sono contento per te Perché a me sempre Ci sono messi Nel senso che Allora a me ti spiace Soltanto il fatto Che sia così difficile Beccarsi Ma perché simulativo Tu pensi che i rung Siano messi lì a caso E che la gente Ultra sgrava Adesso abbia Abbia i cecchini Che ci sciottano A 600 km di distanza E Cristina Era invisibile Tutta colpa Della simulazione Favorisca Patent del libretto Per cortesia Oh Mi stanno sparando Mi stanno sparando Sono sotto fuoco nemico Ma chi mi spara Dai Ci ho messo 10 minuti Per stare qua sopra Ah ok Se fai save us E poi fai load Devi solo fare load Quando entri Ok quindi non scegli Bene Benissimo Ci doveva essere un qualche motivo Per quel save us Io cercherò di andare a rifregare Quello che avevo visto Ah chi è che mi sta sparando Tanto non ci riuscirai da quella distanza Quello spara palmi Ah Sei morto Ma poi come si salta In questo gioco No non credo che si salti È simulativo I soldati come sappiamo Hanno paura di saltare Ah Cristo però dai Io mi dirigo verso L'unico punto In cui potrò rubare Un fucile D'assalto Qualcosa di simile Perché questo mi fa schifo Oh dove sei tu Che spari con le palline Tyler Sono dietro di te Non ti preoccupare Ti salvo la vita Oh io vedo sempre sto Tyler Attenti vedo mai Guarda questo come è morto Guarda questo come è morto No è scomparso Tyler amico mio Sono dietro di te L'hai ammazzato Tyler 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 vado a fregare Il fucile da cecchino Eh che cosa dai Però Ma secondo me C'è un problema Di ping No è premium Perché non posso avere Un fucile da cecchino Perché Io l'ho avuto Per un attimo Ho mirato Ho goduto poco poco Di quell'arma Allora Un cecchino sta sopra Oh No 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 Ci mette tempo No Avevo preso fucile da cecchino Quando miri con alt E alt qua serve a fare Altra cosa Come? Come stanno a sparare T'ho ammazzato Figlio di Baldrack Oh Ma mamma perché Senti io sono morto Esattamente quando hai detto Ti ho ammazzato Figlio di Baldrack No c'ho il soldato ferito C'ho il soldato ferito Dai Ma che cazzo Sono vicino a te Vicino a te Ma salvami Salvami Vieni dentro È dietro di me però Non mi puoi lasciare In mezzo alla strada Se c'ho una gamba ferita Non l'ho visto Ma che simulazione è Ma dove sta Avevo per la prima volta Preso un fucile da cecchino Vieni dentro Ma che vieni dentro Mi hai ammazzato tu Con la tua incuria Per i compagni di squadra Ma che cavata Ma non è possibile Non sai giocare In modo simulativo Comunque Che gioco Di mezzo Posso riandare A riprendere Quella cazzo Di pistola Là Una volta Mi fate almeno Sparare Eh Questo sta io Tra me Giustamente Arco Due Da sto pezzo Di una mignotta Mi viene dietro Mi viene Ma come giochi Non si Non si ammazzano I cristiani Da dietro E muori Muori No Devo cambiare caricatore Non adesso Non adesso Non adesso No Se sapessi dove sei Sono su un edificio E sto per morire Se sei morto No Non sono morto Pronto La partita finisce Quando muoio io Tu se Se muori Puoi rientrare Allora Allora lì sopra C'è un amico Posso andare Verso l'amico Il mio amico Mi proteggerà Lui è un cecchino Professionista Credo Ah c'è una roccia È un ostacolo Insormontabile Per me Non posso Oltrepassare Questa roccia È troppo difficile Da sorpassare Ragazzi Io sto andando in acqua Ho deciso di rinunciare Al combattimento Mi godrò La vita L'isola La natura Ok Ok Sono qui Sono pezzi cervello Soltanto Guarda Io sto facendo Una cosa tattica Charles Bronzer Mi chiamavano Charles Bronzer Il giustiziere delle botte Guarda Questo fucile Da lontano È una merda Che caga merda Ma pure da vicino Secondo me Ma io intanto Ho capito che Nella vita Non ha senso Combattere Quello che importa È Godersi l'auto Ma come cazzo Fanno a correre Così velocemente Questi Allora io penso Che farò Un'azione suicida Andrò Ho visto due Cecchini salire A distanza Di pochissimi Secondi Credo che farò Una cosa Andrò a Ammazzare Quei due Nemici Ma io intanto Faccio le patelle Raccolgo le vongole Così ci facciamo La spaghettata Quando torni in caserma Anche se Essendo un gioco simulativo Probabilmente Prendiamo le patite B Dalle vongole Ok Qualcuno mi sta sparando Ok Sto salendo Sto salendo Ok Ok Posso Posso fare l'azione della vita L'azione della vita Ma tu sei ancora vivo Sono ancora vivo Lazzi guarda dove sta il cecchino Bravo No Ma che cos'è Ma che cos'è Ma non ha una ghilli addosso Ha un blindato Raga fa schifo Una merda Arrivederci e grazie